Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archive Parlan, sono qui per spiegare come ottenere un attrezzo Etero in maniera completamente gratuita e anche abbastanza rapida su Mawerder Toten. Purtroppo questa cosa richiede per forza uno sniper o un fucile tattico, tutte le altre armi non funzionano e serve comunque un minuto decente perché guarderemo alcuni bersagli anche molto piccoli da lontano. Setup iniziale è molto molto semplice, accendiamo la corrente, torniamo poi in First Room e qui per terra guardando verso i tetti con tutte quante le scritte ci sarà un piccolo foglietto e una specie di documento. Raccogliamolo e partirà un time event con 5 bersagli da poter distruggere e sparare. Purtroppo questa cosa è molto molto veloce e non dà la possibilità di errore, se sbagliamo anche soltanto un bersaglio di questi 5 tutto quanto non funziona e questa cosa si può fare soltanto una volta per game se sbagliamo completamente perduto. Per cui ho utilizzato principalmente l'M16 perché è molto molto preciso, ha un minuto decente nel mio caso il 3x e sparando delle raffiche non colpi singoli la possibilità di sbagliare è un pochino più bassa. Abbiamo appunto un bersaglio subito davanti, uno poi subito sotto, uno a destra dove c'è la scritta Corber, uno tutta un'altra destra in un edificio dentro una finestra e c'è soltanto praticamente la sagoma del bersaglio, e ancora un altro sul tetto dentro un'altra scritta. Questi ultimi due sono probabilmente i più difficili. Vi mostro tutto quanto di nuovo al rallentatore per capire per bene come funziona e devo ammetterlo, per quanto un attrezzo etereo per alzare la rarità sia una cosa molto comoda e tutto il passaggio in sé è molto corto, avere per forza uno sniper o un pochino meglio un fucile tattico non è che sia la scelta perfetta, io utilizzo molto spesso dei pompa, quindi dover comprare a muro un'arma aggiuntiva per questo attrezzo etereo e dover comunque stare lì bello concentrato per questi bersagli perché comunque si muovono in fretta e mancarne uno è comunque molto facile, non è che sia secondo me un side istrag così incredibile, se vi serve farlo e potete farlo assolutamente completatelo, ma altrimenti è giusto una piccola cosa aggiuntiva. Quindi spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto, come al solito tutta quanta la playlist è qui sotto in descrizione, ci vediamo nei prossimi video. Un abbraccio, Ava. Grazie.